Ciao a tutti dal salubatore, grandissima sorpresa, eccomi qui mi trovo con Federico, ciao e a due bellissimi cuccioli, abbiamo qui Dante, il piccolo Dante e poi abbiamo qui Wendalina, e poi è arrivato il disturbatore qua dietro, ecco qua Michi Giusino e allora noi facciamo un saluto a tutti gli amici degli animali, degli amici a quattro zampe anche a due zampe, salutiamo, ma i migliori sono quelli a quattro perciò mi raccomando, massima tutela, fate i bravi, Wendalina, salutiamo tutti gli altri cagnolini e tutti gli amici dei cagli, va bene? Ciao dal salubatore e ricordiamo la pagina, che pagina hanno loro due? La Wendalina, è la mia, Federico Biondo, ciao, Federico Biondo, e poi Biondo non sei, ero biondo poi sono diventato bianco, lo so, un saluto a tutti, a tutti gli amici dal web, ciao il salutatore e i cuccioli, ciao!